Partirà ad aprile un nuovo ciclo di incontri con i risparmiatori azzerati di Banca Etruria, organizzato da Feder Consumatori Arezzo. Ormai si è concluso l'invio delle domande per i rimborsi forfettari, da Arezzo sono state presentate 1.923 stanze al fondo per un controvalore di quasi 35 milioni. Ma rimangono ancora numerosi capitoli aperti. Delle stanze presentate da Feder Consumatori ne sono state rimborsate appena 561, oltre 1.362 aretini, quindi restano ancora in attesa del ristoro. E ancora tanti sono gli interrogativi in cerca di risposte per quanto riguarda l'arbitrato. È inaccettabile che un rimborso che doveva essere erogato entro 60 giorni avvenga in realtà in tempi così indefiniti da lasciare le persone nello smarrimento e nell'incertezza più assoluta, sostiene Feder Consumatori. Tutti coloro che non hanno potuto presentare istanza di rimborso, 187 persone per la sola Feder Consumatori a Arezzo aspettano da circa 15 mesi il valo delle procedure per l'arbitrato. I partiti politici, le forze istituzionali e i parlamentari aretini devono agire sul governo e prendere le soluzioni dovute ai loro cittadini. Dal canto suo Feder Consumatori si farà promotrice di un nuovo incontro per presentare il testo di un'interrogazione parlamentare da sottoporre a Question Time alla presidenza del Consiglio e al Ministero dell'Economia. Feder Consumatori, inoltre assieme al Comitato degli Azzerati del Salva Banche, ha chiesto un nuovo incontro con il governo con il MEF. Infine l'Associazione di Consumatori fa sapere che con l'assistenza di uno studio legale e di un pool di avvocati agirà per via giudiziaria contro gli amministratori responsabili del fallimento della banca e contro la società di revisione e certificazione dei bilanci, responsabile, secondo Feder Consumatori, di non aver visto. L'associazione aspetta quindi con pazienza e con fiducia la conclusione delle indagini aperte. Nell'ipotesi venisse accertato il reato di bancarotta fraudolenta, Feder Consumatori si costituirà parte civile contro i responsabili e proporrà ai risparmiatori azzerati di fare altrettanto. Inoltre Feder Consumatori inviterà gli obbligazionisti e gli azionisti azzerati per intentare azione legale di responsabilità contro la società che ha certificato quei bilanci di banchi Etruria. Per illustrare tutto ciò ai risparmiatori associati, Feder Consumatori convocherà a partire dai primi di aprile un ciclo di 20 assemblee presso la Sala Convegni della Camera del Lavoro di Arezzo in via Montecervino.